A Tele Libertà si conclude la stagione di Vivere in Salute. La trasmissione è condotta dal gastroenterologo Fabio Fornari e subito se ne apre un'altra, sempre dedicata alla salute. Dalla prossima settimana, infatti, ogni giovedì sera ci sarà un nuovo appuntamento con il primario di Oncoematologia dell'ospedale di Piacenza Luigi Cravanna, che punterà i riflettori soprattutto sul tema della prevenzione a 360 gradi. Stasera, invece, ci sarà una puntata a ponte, intitolata I giovedì della medicina, condotta dalla giornalista Marzia Foletti. L'appuntamento è alle 20.15 su Tele Libertà e al centro della trasmissione ci sarà il cambio di stagione e gli effetti sulla salute che la primavera porta. Ospiti della puntata saranno tre esperte, la psicologa Elena Nazari, la nutrizionista Mirella Del Rocino e la dermatologa Sara Scrivani. La puntata di questa sera rappresentano spartiacque per una nuova avventura che parte giovedì prossimo con il professor Luigi Cavanna, il primario del reparto di oncologia dell'ospedale di Piacenza, nonché il fautore delle cure domiciliari contro il Covid, che, sapete, hanno salvato tante vite sul nostro territorio e gli sono valse anche un riconoscimento a livello mondiale per il suo operato. E allora i giovedì della medicina di Tele Libertà proseguono. Apriremo un filone, tutto dedicato alla prevenzione. Questa sera ci occupiamo invece di cambio di stagione. Lo facciamo con tre esperti del nostro territorio e con una particolare attenzione verso quella che è l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo.